Scusa, quanti ne hai fatti? Non ti ne bastavano? Tre. Tre pure di percoli? Ci sta. Poi dimmi un po' di fugga. E' anche uno qua in giro. Fuggi? Gli gnari, fuggi, porcini dove sono? No, sono alla ricerca di cimiteri. No, sono alla ricerca di cimiteri. Io ti posso dire dove ho trovato quella droga. Ovviamente la droga la prendi perché la puoi rivendere. Quindi lo stipendio dei fotoreporter è abbastanza basso. E poi la macchina fotografica d'ora? Hai cercato di... C'è, non è che la macchina fotografica. Non mica le dobbiamo fotografare, noi cerchiamo cimiteri. No, hai detto fotoreporter. Hai dato i numeri... Sì, le ha fotografati... Paco. Poi abbiamo fatto un giro molto in là. Abbiamo visto dell'altro agente armato. Abbiamo visto anche un medico. Abbiamo visto anche noi, è il mio cucino. Ma la cosa strana è che hai due nomi diversi. No, quello è un collega che si unirà in serato. Che è morto. Non c'è adesso. Potresti seguirli. Magari. Ha mangiato un fungo aria. Magari. Magari. Noi sappiamo che in zona cimiteria... Questo qui si chiama Dejan Kovic. Qua si chiama Collamoris. Qua si chiama Stone. Dejan Kovic è abbastanza simile a un nome serbo. Che è la fazione della GNA. Potrebbe essere finta. Quindi sei sloveno o italiano? No, infatti non si capisce un cazzo. No. Grazie. Grazie.